benvenuti in questo nuovo video oggi come potete ben vedere siamo in un bel parcheggione abbandonato fino all'aeroporto di fiumicino e oggi faremo una cosa molto particolare o meglio non io ma lei che gli piace oggi tu proverai la nuova moto che avete appena visto è valentino pezzi salito sulla roma perché dobbiamo registrare dei video insieme e poi io scenderò a napoli quindi aspettare delle news molto interessanti sei pronto amore no non faccio niente adesso deve mettere la giacca non mi ha fatto provare rs ma le restiamo l'ho venduta non ce l'ho ancora il garage sincron video 1 batti le mani guarda che bella tutta preparata quanta voglia di provare l'erci ora 10 sì se non ci fosse nessuno 8 ma vai tranquilla che è una cavolata è una pista tua allora questa funziona come il tuo piccolo duke ovvero qui ci sono le chiavi bravissima e acceso la moto adesso funziona come la tua sappi però che non puoi mettere il cavalletto perché è tutto c'ho paura amore no amore io casco non riesco a sta ferma c'ho paura ci può stare guarda che una volta che sei partita è facile madonna santa madonna madonna santa madonna non me la mette la seconda al calco di hanno angolato la moto carlotta chiede un parere femminile sei fiduciosa secondo me si 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 mo casco mo casco mo casco una pianta mo 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 me frascio che tutta stanzia credo mi abbia detto qualcosa tipo levati dal c***o poi lo ricontrolleremo meglio in regia oh cazzo ok 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 che bella ok mo me fermo perché basta che bella ti è piaciuta sii la smetti di farti delle paranoie e capisci che stai guidare 0 9 di valentino persi servatica si ma la vera domanda è l'hai dato tutto o no è che cazzo esatto no è un altro giro quindi adesso cosa fai ti fa un altro giro però acceleri così vedi un attimo qual è la potenza di questa moto ragazzi però ancora non tiro le marce secondo me c'ho un po paura gliela voglio far levare anche perché non succede niente tranquilla un conto che se provi il 500 di tommaso insomma un ktm motard capisci bene che accelera la tira da un pelo di più ma ancora non ci siamo che bella ok bella raga è bellissima e quando te lo dico io devi aprire tutto tu metti la prima ok poi tu metti la seconda sul video che hai messo la seconda che comunque sei bassa di giri apri tutto non succede niente la moto mi sa che non ha capito cosa vuol dire aprire tutto poverina si bravi montesciare brava cosi com'è l'hai tirata tutta? si come è stato? bellissimo ma hai perdonato perchè non hai provato l'RS? vabbè vabbè ma proprio questa sera entro il condominio brava brava questo casco che te balla cosa devono fare i ragazzi che stanno vedendo in questo momento questo video? lasciare un mi piace iscriversi al canale a chi non è iscritto e riguardare tutti quanti i video di domenico perchè abbiamo fissato in giro va bene e si raga dai che voglio comprare un bello scaricozza a verone così anche il seu duke 125 rimane fermo ma almeno si fa sentire e non gli viene addosso vi ringrazio per essere arrivati fino a questa parte del video fatemi sapere cosa ne pensate di questo test drive molto improvvisato da veronica non credo abbia parlato dentro il casco poi lo vedrò io in montaggio e voi sicuramente l'avrete già visto vi chiedo di condividere il video per farlo arrivare a più persone possibile e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao